Amici di ZTL siamo qui con Luciano Melchionna, buonasera Luciano. Buonasera, buonasera a tutti. Degnità autonome di prostituzione, ci spieghi di cosa si tratta. Che cos'è? Di prostituzione. Che cos'è? Non capisco. Allora no, in realtà vengo dalla prova, infatti mi sto cercando di ridare un tono, come dire, perché le mie prove sono abbastanza intense. Dignità autonome di prostituzione è uno spettacolo di Luciano Melchionna dal format di Betta Cianchini e Luciano Melchionna, adorata Betta Cianchini, che tra l'altro è anche Ania, prostituta slovacca dentro lo spettacolo. E lei la dà, la pillola di teatro, in macchina davanti al teatro o il luogo deputato. Questa volta il luogo deputato è il teatro Ambra Iovinelli. Siamo molto onorati di inaugurare la stagione 2012-2013 del teatro. E dignità autonome di prostituzione è la casa chiusa dell'arte. Ovvero abbiamo pensato, vedendo gli artisti in giro, come dire, per strada, a prostituirsi praticamente da tanto tempo, abbiamo pensato con Elisabetta di dare loro una casa chiusa e protetta. E tutto questo è stato pensato e realizzato nel 2007. Festeggiamo il 3 novembre i 5 anni di repliche di dignità autonome di prostituzione in Italia e in Spagna per il momento. Ogni qualvolta finirete di gustare una pillola di piacere, siete pregati di scegliere un'altra prostituta con cui proseguire la serata. Troverete le prostitute nelle vie della perdizione antistante alla platea e giù nel foyer. Insomma, davanti all'ascensore vicino al bar. Sì, certo, banalizzandoli, va bene? Antistante alla platea e giù nel foyer. Troverete altresì dei cartelli con i nomi delle prostitute. Se non trovate la prostituta, aspettatela davanti al cartello corrispondente. Verrà lei per portarti nella sua alcova. Infatti so che voi avete fatto una serie di tournée in giro per l'Italia fino ad arrivare alla Spagna. Ma come reagisce il pubblico davanti a questa provocazione? Guarda, mi piace che tu l'abbia abbinato alla Spagna. Perché la cosa meravigliosa è che in Spagna è successo tutto nello stesso modo che in Italia. E sono convinto che dovunque andremo sarà così. Il pubblico si galvanizza, non so come dire, perché ha l'occasione di vivere degli spazi in un modo completamente nuovo. Io metto le mie cortigiane in giro per il teatro, nel senso che tutto avviene entrando, acquistando il biglietto. Con il biglietto ci sono i dollarini che sono il denaro locale. Dopodiché c'è una cerimonia d'apertura abbastanza intrigante e avvolgente. E durante la cerimonia d'apertura vengono presentate le prostitute e i prostituti della serata. Il pubblico entrando, gli spettatori diventano clienti. Con questi dollarini alla fine della cerimonia d'apertura iniziano le contrattazioni e sceglie. Voglio te, quanto mi dai, quanto vuoi. Ci sono le metresse, una famiglia molto particolare, tenutaria del bordello dell'arte. E si appartano nel sottoscala, nel bagno, nei soffitti, negli uffici, nei camerini. Chi più ne ha più ne metta. Questa edizione prevede anche una stanza dello splendido S-Hotel qui accanto. hanno prestato anche loro una stanza. Quindi la situazione della casa chiusa sta prendendo veramente piede di nuovo. Andate con la prima che è libera. Seguite i flussi. Lasciatevi trasportare dalle correnti. Piricchino. La cosa più importante comunque qua dentro è stare in uno stato di not panic, relax, feng shui, chill out, ayurvedica. Perché questa è l'isola che non c'è. Si è capito? Tutto amore, anche troppo. Quanto pensi che possa essere provocatorio questo spettacolo? Ma guarda, io in realtà credo che destabilizzi abbastanza il primo impatto. Ossia, quando lo si sente non si capisce in realtà che cosa sarà vivendolo. E infatti vi invito a scoprirlo. Perché anche chi è timido e dice Oddio mio, ma non siamo seduti e andiamo in giro? No, tranquilli, perché io detesto gli spettacoli in cui si utilizza o si sfrutta l'imbarazzo e la goffaggine del pubblico, che ovviamente è goffo in quanto pubblico. Cioè non ha lavorato, non si è preparato e non ha fatto le prove. Quindi è chiaro che non hai niente da dire se utilizzi tutto il tempo loro. Il pubblico è molto rispettato, è molto coccolato. E rispettato nel vero senso della parola sceglie lui, non viene per forza tirato in mezzo. E dopo questo, dicevo, il primo impatto a sentirlo dire, poi si arriva e c'è il primo impatto nell'ingresso. Perché, vabbè, qui al Teatro Ambraio Inelli ho fatto anche proprio un ingressino intrigantino. E ancor più. E vive i primi dieci minuti di contrattazione come, oh mio Dio, che succede? Dopodiché, dagli ottantenni ai quattordicenni, partono in quarta e voglio te, voglio quell'altro. Vanno giù, vanno su, ritornano, ascoltano i miei meravigliosi artisti al centro della platea, che cantano ininterrottamente. Inseguono il prostituto o la prostituta che gli interessa. Entrano nelle stanze. Dieci, quindici minuti è il massimo della durata di questi monologhi o performance nelle stanzette. escono con una lacrima, con un sorriso, con il cuore dolorante, felici. E dicono, dove posso andare a tirar fuori un'altra lacrima, un altro sorriso o a farmi male al cuore. E alla fine siamo costretti, io che sono l'amministratore Papi Melchionna, sono costretto a chiedergli se non ce l'hanno una casa dove tornare e sbatterli tutti fuori. Mi ha colpito tantissimo questa tua frase, penso. Mi paghi prima e dopo, ancora, se ti è piaciuto. Ci puoi spiegare? Beh, sai, è una prestazione vera e propria. Visto che si tratta di contrattazione, è come dire, ti do i soldi indietro se non funziona. Io non lo menziono proprio nella frase perché non è mai accaduto. Cioè, può piacerti o meno, essere d'accordo o meno su quello che vedi in quei 10-15 minuti, ma non puoi che apprezzare il talento, la professionalità altissima dei miei artisti selezionati, non vi dico con quali criteri e con quanta fatica sia per me che per loro. Per cui mi sembra bello il fatto che si può contrattare a scatola chiusa un prezzo e poi magari decidere di allungare degli altri dollarini dopo, per quanto è stato bravo, virtuoso e umano e emozionante l'artista. Ricordando sempre che sono degli attori e quindi non sono delle vere e proprie prostitute. Beh, sai, sono i due mestieri più antichi del mondo, quindi chissà che ogni tanto non combacino. No, in realtà no, sono solo ed esclusivamente straordinari artisti. Io ogni volta avrei voglia di nominarli uno per uno, ma sarebbe una follia perché siamo arrivati, credo di aver preparato intorno ai 170 artisti in 5 anni, per cui insomma nominarli tutti sarebbe veramente difficile. Sicuramente ti dico che il livello qualitativo e quindi 170 è niente in confronto a tutti quelli che ancora incontrerò, con i quali lavorerò, quindi siamo tanti. Quindi ci sono un sacco di artisti in Italia straordinari. Quindi non sarà il caso di cominciare a dargli un po' tutti, un po' di protezione in più, di tutela in più? Uno spettacolo che va assolutamente visto. Va visto, va goduto. Pensa che la maggior parte delle volte mi dicono che spettacolo, soprattutto teatrale, è poco, cioè non coincide esattamente con quello che vivi. E devo dire che sono d'accordo, è un'esperienza, è un'esperienza che tanti decidono di fare anche 14-15 volte durante un'edizione. È molto frequente questo, anche perché ruotano continuamente nuovi artisti all'interno. Quindi ogni replica è diversa da quella precedente, sempre, e ogni edizione è completamente nuova e dedicata. Quest'anno io sto dedicando questa edizione al Teatro Ambra Iovinelli in una forma assolutamente inedita. Voi siete in scena qui all'Ambra Iovinelli fino alla? Fino al 4 novembre, dal giovedì alla domenica, dal giovedì al sabato alle 21, serale, la domenica alle 17. Venite soprattutto le prime due, tre settimane perché alla fine già siamo overbooking, il numero chiuso, è un macello. Venite oggi, adesso, tra mezz'ora. Siamo qua. Grazie, signore e signori, vi aggiungiamo domani, numerosi, più che mai, invitate i vostri amici. Grazie, signore e signori, vi aggiungiamo domani, numerosi, più che già, è un macello.